oggi piove tappa bagnata tappa fortunata sembriamo i guardiani del faro verso taranto the last route manca poco 25 chilometri non è che sono proprio pochi però dai ciao ciao in vista di taranto manca poco 5 chilometri ultimi metri ci separano dalla stato del marinaio di taranto è stata dura oggi un tappone pure oggi pieno di fango sarà durissima durissima ci siamo quasi girate eccoci qua è fatta complimenti complimenti ci abbiamo fatto le ragazze da un ancora riva puri cani sciolti però speriamo bene